guardate questa cimice si è cappottata vediamo non riesce neanche a girarsi Anna dammi una mano a girarla vediamo se ci riesce Anna e no ma tu l'hai presa guarda l'hai figata fammela vedere guardatela com'è mamma mia guardatela sotto com'è guardatela negli occhi mamma mia è verde guarda com'è attenzione che se che questa rimettila per terra ancora al contrario vediamo se ce la fa vediamo se ce la fa secondate ce la fa no prova a girarla eccola ce l'ha fatta vai è riuscita lasciala 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 vediamo cosa fa ci guarda questo è un insetto puzzolente io la chiamo finissi ecce ciao 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 la saudiamo ok ciao 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 ciao